buona domenica buona domenica a tutti una domenica sicuramente più luminosa più felice più serena dopo la vittoria del milan di ieri sera una vittoria che sulla carta doveva essere semplice invece quando arriva lo spezia quando il milan affronta lo spezia c'è sempre da preoccuparsi c'è sempre da temere che qualcosa vada storto anche ieri sera il milan stava per non vincere la partita e poi ci ha pensato lui ci ha pensato un attaccante straordinario olivier girou io penso che bisogna solamente dire grazie a questo giocatore perché ci ha regalato non solo i tre punti e quindi una grande vittoria contro lo spezia ma ha regalato a tutto il pubblico e gli appassionati di calcio un'opera d'arte ha regalato a tutti gli sportivi anche non milanisti probabilmente i non milanisti sicuramente hanno goduto meno un'opera d'arte un gol da cineteca un euro gol un qualcosa di magnifico di spettacolare di enormemente bello il gol di olivier girou è qualcosa che ti resta dentro lasciamo stare per un attimo che si tratta di un gol contro lo spezia e quindi non è che il milan ha vinto la finale di champions non è che il milan ha vinto lo scudetto ieri sera ma la bellezza di quel gesto tecnico la bellezza di quel volo spiccato da olivier girou che è rimasto lì in area per colpire la palla in modo perfetto e si è infilato sul lato opposto di drongoschi ragazzi abbiamo assistito un gol bellissimo momento in un momento molto complicato per il milan la palla non voleva entrare in realtà era entrata con il gol di tonali ma è stato annullato due traverse tante occasioni anche i giocatori hanno avvertito che la partita contro lo spezia poteva essere stregata come l'anno scorso vi ricordate l'anno scorso cos'era successo il milan le approvate tutte aveva segnato con messias l'arbitro serra aveva annullato il gol e poi al 96 c'era stata addirittura la beffa con il gol del dello spezia ma anche l'anno precedente il milan aveva perso ma in in liguria alla spezia quindi le partite contro i liguri e stanno diventando delle partite assurde le partite paranormali delle partite dove succedono cose mai viste e quindi nella testa dei giocatori cominciava ad installarsi il nervosismo il dubbio la paura c'era stata anche la rissa no prima del gol di girù dove era stato ammonito tevernandez che salterà la cremonese era stato ammonito anche girù si percepiva nell'aria che qualcosa non era non era proprio al meglio e poi è entrato girù ha segnato un gol bellissimo è venuto giù lo stadio per l'importanza del gol ma anche per la bellezza e per questo secondo me bisogna dire grazie a questo giocatore grazie perché ha fatto ha realizzato un'opera d'arte ed è ed è bellissimo il gol di di olivier girù tra l'altro lui è un giocatore che sta segnando tantissimo sta avendo un'incidenza tale sull'andamento del milan e che è che è enorme in questo inizio di stagione per non contare i gol pesanti che ha fatto l'anno scorso l'ivier girù parliamo di un giocatore che ha segnato nove gol e quattro assist in questo inizio di stagione tra champions e campionato sono tanti sono tantissime sono tutti importantissime sono tutti pesanti bisogna solamente dire grazie a olivier girù per questa bellissima serata che ha regalato ai tifosi e per questo gol stupendo che ha confezionato grazie anche a sandro tonali che ha scodellato un pallone meraviglioso in area di rigore e qualcuno dice ma non doveva sfilarsi la maglia e non doveva risultare in quel modo non ci ha pensato ma sinceramente posso dire ma chi se ne frega per un gol del genere va bene anche la seconda munizione per un gol così importante per un gol così bello va va bene passi anche l'espulsione di girù che poi si è messo a piangere diciamo appunto a girù se ci sta ascoltando ovviamente no però ipoteticamente non piangere non piangere in quelle occasioni non piangere per quel rosso non piangere per quella per quell'espulsione perché lui dopo che si è reso conto di essere già munito e quindi aver subito la seconda munizione si è recato verso il tunnel degli spogliatoi e lo hanno visto anche un po piangere no li hanno visto con la mano con con la testa tra le mani insomma lo hanno visto giù di morale per l'espulsione io dico a girù va bene così quel gol lì vale anche diciamo è talmente importante che l'espulsione passa sicuramente il secondo piano immaginate se il mia non avesse vinto la partita ci sarebbe ritrovato a meno 8 punti dal napoli sarebbe stato un disastro e invece ora resta a meno 6 va a cremona a giocare dove con tutto il rispetto per la cremonese ma il mian ha le possibilità di battere la cremonese anche senza girù c'è comunque orighi c'è comunque rebic c'è comunque de ketlare c'è comunque tutto il reparto offensivo leao diaz quindi è importante il gol di girù in quel momento e va bene anche il rosso non criticate girù perché ha avuto quel momento di dimenticanza dove lui non si ricordava del 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 giallo di essere già monito quindi non piangere girù e soprattutto cerca di tirare su tirarti su di morale perché il gol è stato un gol bellissimo è stato un gol fantastico tra l'altro tra poco leggeremo anche delle dichiarazioni di girù seconda parte del video la voglio dedicare a un altro campione un altro ragazzo straordinario che è sandro tonali tonali è entrato in campo con una cattiveria mai vista una cattiveria agonistica di chi deve deve cambiare la partita tra l'altro lui entra in campo in maniera decisa poi il il lo spezia pareggia con con daniel maldini anche qui il fato no anche qui chi va a segnare contro il milan daniel maldini va bene comunque tonali che segna questo gol bellissimo spettacolare da fuori aria una cannonata che si infila alle spalle di drongoschi l'esultanza di tonali il gol gli viene annullato lui capisce che il momento è difficile perché la partita è sull'uno a uno perché il suo gol viene annullato e la lancetta corre veloce e anche in testa sua rivede il film della passata stagione quindi a fretta i tempi dice ai compagni di muoversi va a recuperare i palloni per velocizzare il gioco la lancetta corre veloce il tempo scorre veloce si arriva sempre di più verso il novantesimo tonali vuole vuole questa vittoria la vuole a tutti i costi e alla fine la pennellata il disegno la parabola per olivier giru che segna un gol stupendo quindi anche grande merito di sandro tonali che entra con una concentrazione una cattivere una determinazione unica perché tonali è tifoso del milan e quando perde sta male quando perde soffre quindi da qualcosa in più in ogni partita anche in queste partite in cui bisogna capire che non basta essere più forti tecnicamente bisogna dare qualcosa in più anche dal punto di vista agonistico della testa e della determinazione della cattiveria e tonali ci è riuscito infatti se andate a vedere i tre candidati per l mvp di oggi del milan ci sono giru che ovviamente l mvp della gara teo hernandez che ha segnato un gol anche lui importante il gol del 1 a 0 e poi sandro tonali sandro tonali che ha realizzato questo bellissimo assist ma anche un gol sfortunatamente annullato dopo il controllo al var ragazzi è stata è stata un'odissea la partita contro lo spezia capisci quando le cose non si mettono sui binari giusti anche il primo tempo il milan ha avuto tantissime occasioni non le ha sfruttate però l'importante per il milan aver portato a casa i tre punti e lo dice anche olivio giru dice è stato un gol molto bello il mio un bel passaggio di sandro volevamo vincere questa partita siamo rimasti carichi fino alla fine è importante che abbiamo i tre tre punti in più ma sono arrabbiato perché mi sono dimenticato che ero ammonito quindi lui nella gioia nella felicità per aver fatto un gol bellissimo si dimentica di questo giallo non fa niente non fa niente l'importante era vincere e poi dice stavo pensando che questa partita mi ha ricordato l'anno scorso quando il milan alla perse la partita invece questa volta abbiamo vinto abbiamo visto un grande spirito di squadra fino alla fine ci abbiamo creduto e siamo felici e così conclude olivio giru l'eroe di milan spezia l'eroe di questo milan